I bambini nel campo di concentramento di Auschwitz arrivavano con i treni, ma non soltanto con i treni, alcuni nascevano proprio lì. Ora voi immaginatevi nascere nel campo di Auschwitz-Birkenau. La prima persona che vedi non è l'allevatrice, come si diceva un tempo o l'ostetrica o la dottoressa. La prima persona che vedi è una nazista che ti prende e ti mette in un barile pieno d'acqua fino ad affogarti. Poi prende il tuo corpo, che essendo un bambino è un corpicino, e lo dà in pasto ai topi. Che ad Auschwitz, se tu sommi i nazisti e sommi i prigionieri, i topi erano di più. A questa fine sfuggiva soltanto una categoria di neonati, quelli nati dalle donne polacche russe, deportate nel campo di concentramento e stuprate dai soldati tedeschi. A queste donne durante la gravidanza veniva fatta l'analisi del sangue per capire se il sangue del futuro bambino sarebbe stato abbastanza ariano. Significava provare a controllare preventivamente, ad esempio, il colore degli occhi. Sono azzurri? Sono celesti? Oppure non sono ariani? Nel caso in cui non lo fossero, il bambino veniva ucciso appena nato in quei barili con l'acqua fredda affogato con le mani della levatrice nazista. Ma la maggior parte dei bambini ad Auschwitz e Birkenau non ci nasceva. Veniva deportata con dei treni che non somigliavano a quelli dei fumetti o dei cartoni animati che fanno ciuff, ciuff. Questi erano più dei treni che facevano sbam, sbam. Il destino dei bambini ad Auschwitz e Birkenau si divideva in tre tipi. Se tu avevi meno di 12 anni, venivi ammazzato subito, quasi sempre con delle fucilazioni di massa, non da solo, ma insieme a donne vecchie, vecchi, disabili. Poi si accorsero che con le camere a gas potevano fare prima e allora iniziarono con le camere a gas. Tra l'altro risparmiavano anche sui bossoli. La seconda possibilità era che tu avessi più di 12 anni. Ecco, allora in quel caso venivi avviato ai lavori forzati, il che voleva dire iniziare a morire lentamente da dolore, fatica, disobbedienza, malattia, freddo o anche più di queste cose insieme. C'era poi una terza possibilità. Era quella che tu finissi nelle mani del non dottore Mengele. Dico non dottore perché i dottori di solito curano le persone, le aiutano a stare meglio. Ecco, quel dottore lì invece no. Lui faceva degli esperimenti su questi bambini e li portava alla morte. Mengele veniva chiamato angelo della morte, anche dai nazisti. Mengele voleva preservare la razza ariana, identificando i segreti dell'ereditarietà. E allora fece costruire una specie di asilo dove mandò i bambini, gemelli in mono zigoti, a giocare. Che sembra anche normale, no? Detta così. Cioè tu costruisci un asilo, i bambini vanno a giocare e tu li osservi mentre i bambini giocano. Quello che non era normale era Mengele, che era quel non dottore che voleva trasformare quei bambini lì in bambini di pura razza ariana. E allora ogni giorno li pesava, li misurava e ogni tanto li chiamava a sé e li iniettava nell'iride il metilene blu, per schiarire gli occhi, per farli diventare azzurri, per farli diventare di razza ariana. I bambini non diventavano di razza ariana. I bambini urlavano dal dolore, diventavano ciechi e quando si addormentavano Mengele li soffocava nel sonno. Oppure cuciva i gemelli per la schiena, per capire cosa gli sarebbe successo. E quando capiva non gli sarebbe successo niente, a parte urlare dal dolore, soffocava anche loro. Mengele prese 3.000 bambini, di questi solo 200 sopravvissero quando il campo di Auschwitz-Birkenau venne liberato. Fra le sopravvissute c'erano Tatiana e Andra Bucci, sorelle scambiate per gemelle italiane. Una sera, in una piccola camera d'albergo, mi raccontarono la storia di Sergio. Sergio era il loro cuginetto, Sergio aveva 7 anni. La storia è questa. All'interno della baracca c'era una donna che controllava. Quella donna una volta si avvicinò ad Andra e Tatiana e disse loro, verrà un uomo su un camion e chiederà chi vuole rivedere la propria mamma, faccia un passo in avanti. Non è vero, la mamma non ve la farà rivedere, non lo fate il passo in avanti. Andra e Tatiana si fidarono, si fidarono così tanto che andarono anche da Sergio e gli dissero, Sergio, verrà un uomo, dirà chi vuole rivedere la propria mamma, faccia un passo in avanti. Ma non è vero, non ti ci porterà dalla mamma, non lo fare il passo in avanti. Ma Sergio, quando sentì la parola, la mamma era già contento. Quest'uomo venne e disse, chi di voi bambini vuole rivedere la sua mamma? Faccia un passo in avanti. E Sergio alzò la mano, fece il passo in avanti. E l'ultima immagine che Andra e Tatiana hanno del loro cuginetto è seduto sul camion del nazista. Che facciamo? Con la manino e un mezzo sorriso, pensando di andare a rivedere la sua mamma. Finirà Sergio ad Hamburgo. Ad Hamburgo gli inietteranno delle cose dentro il corpo per provare la tubercolosi. Lo sottoposero a una serie di esperimenti insieme ad altri 19 bambini. Poi gli americani arrivarono a liberare Hamburgo e i nazisti presero questi bambini e li portarono in una scuola. Ma non è una scuola dove si insegna. È lo scantinato di una scuola con dei ganci da macellai attaccati alle pareti dove impiccarono questi bambini. E alcuni erano così piccini e i loro corpicini pesavano così poco che li dovettero tirare per le gambe. Questo è stato. Ricordare serve per comprendere. Comprendere non serve per scusare. Serve per capire e non ripetere gli orrori del passato neanche in altre forme o in altri modi. Questo è stato.